Bella Vito! Questo video lo faccio per il contest dei tuoi 1000 iscritti anche se adesso siamo già a 1300 penso se non di più ti faccio i complimentissimi e il tema del mio contest è molto semplice perché ci tenevo tantissimo a partecipare ma non avevo molto tempo quindi è praticamente un unboxing di una collector è un po' banale lo so però l'ho fatto soprattutto per partecipare quindi andiamo con l'unboxing ah tra l'altro come hai visto ho messo la famosa maglietta che avrei detto che non avrei mai messo ma l'ho messa per questa occasione andiamo con l'unboxing eccoci qua Vito la collector in questione è Skyrim Premium Edition ovviamente per Playstation 3 che contiene un bel po' di roba una maglietta, tanti cartoline foto, un artbook, il gioco ovviamente e la colonna sonora l'ho trovata veramente a poco e ci tenevo a a a farla la mettiamo qui qui abbiamo la scatola cartonata con il logo un po' in rilievo di Skyrim Premium Edition completamente nera c'è solo scritto Bethesda qui in basso andiamo a vedere cosa c'è qua dentro qui lo mettiamo qui allora qui abbiamo un cd che dovrebbe essere Premium Edition Content non so cosa sia lo scoprirò con il logo di Skyrim mettiamo dove lo mettiamo perché miseria non c'è spazio siamo qui qui c'è una lettera c'è posta per te qua praticamente sono delle cartoline fotografiche andiamo di farle vedere velocemente sono anche fatte molto bene in cartoncino non sono lucide ma comunque sono molto molto belle e questo lo mettiamo qui il bustone lo tiriamo via e qui c'è cioè io praticamente ogni collector che prendo ora mi dirai trovi dentro una maglietta qua c'è praticamente una maglietta di Skyrim che la usiamo come sfondo come al solito dai più banale di così dire ah qua dietro praticamente c'è scritto Skyrim e qua c'è il loghino dai questo è bello questo ci andrà in giro poi qui abbiamo il disco di gioco ovviamente si perché con il disco di gioco che me ne faccio con la mappa che tra l'altro c'erò anche per la versione Playstation 3 librettino come puoi vedere ha colori bellissima e qua dovrebbe esserci sì il retro praticamente la un'altra copertina si può girare come anche in Dishonored mi sembra che c'è poi continuiamo a ravanare e qui c'è un bel librone che ovviamente avendolo preso da un sito qua in Svizzera è in tedesco quindi di questo libro me ne faccio un cazzo perché io il tedesco non lo so non è disegnato né niente quindi cosa me ne faccio di questa cosa e quindi niente Vito è un brevissimo veramente un brevissimo video contest fatto come ho detto perché ci teneva tantissimo a partecipare al tuo contest e e l'ho voluto fare con questo premium edition avrei voluto farlo con quella enorme con il draghetto ma non l'ho trovata quindi niente spero che questo video breve ti sia piaciuto e ti auguro che i tuoi iscritti vanno a aumentare perché te lo meriti veramente bene Vito qua finisce il mio video e bella